La Louisiana va avanti, sfiora la vittoria, mette in crisi la Calvina, poi rischia pure di perdere e invece muove la classifica e fa un altro passo verso la salvezza con la zona rossa ora distante, 5 punti. È Don Nini show e ci vuole poco ad accorgersene. Punizione dalla zolla buona e Micheletti, solitamente una saracinesca, viene beffato sul suo palo. Dall'altra parte al sesto è molto attento Vavasori su Crescini, pericoloso di testa. Non accade più nulla fino al quarantesimo, quando Alessandrini e Pesenti per due volte bombardano la porta bresciana senza riuscire a pescare il jolly. La ripresa è molto più vivace. Crescini si trova al porto giusto al momento giusto, ma alza troppo la mira, poi però al terzo la Calvina pareggia. Buona Corsi, difensore di ruolo, in avanscoperta riceve palla dopo una punizione di Pasotti toccata da molti e fissa il pare sotto la traversa. Altra punizione al cinquantunesimo, ancora Pasotti alla battuta, la Sfera in qualche modo arriva in area, alla fine Pradella mette dentro ma per il guardalinea è fuori gioco. La Louisiana si rianima grazie al solito Donnini. Bravo Fiorentini a metterci il piede, vincere il contrasto e fornire un assist fortunoso ma efficace al numero 10 che non sbaglia, 2-1. Facchetti non arriva sul cross di Marinoni, Donnini fa tremare Micheletti sempre col suo destro magico. Tenta anche il colpo a effetto il numero 10, senza fortuna stavolta prima di uscire tra gli applausi. Al settantaseiesimo sulla solita punizione ben battuta da Pasotti, ecco però una nuova doccia fredda. La mischia in area libera Zambelli che da posizione defilata da destra inventa un tiro sotto il primo incrocio che vale il nuovo pareggio. Le due squadre non si accontentano, non sono occasioni limpide quelle di Fiorentini da un lato e di Triglia ingirata dall'altro. La punizione di Marinoni invece spaventa e non poco Micheletti che vola e ci arriva. Poi il gran finale, all'ottantottesimo su cross di Abba, Volpi spreca un gol fatto inzuccando palla addosso a Micheletti. Al novantatresimo Triglia si invola, cade e viene chiuso, pare regolarmente da un difensore chiedendo in vano rigore.